porre una diagnosi certa di rottura delle membrane. Eventualmente, appunto, nei casi dubbi può essere necessario, la diagnosi può essere supportata dall'impiego di eventuali test biochimici. L'ecografia, parlando appunto di un corso di ecografia, l'ecografia ha sicuramente un suo ruolo in questo campo, in quanto può, anche in questo caso, supportare la riduzione o l'assenza di liquido amniotico, possono supportare quella che è la diagnosi che noi però probabilmente avremo già posto, come dicevo, con i due primi dati. Quello che è raccomandato da tutte quante le associazioni è quello di evitare l'esplorazione vaginale, perché la probabilità di infezioni, in questo caso, in caso di esplorazioni vaginali ripetute, aumenta significativamente. In linea teorica, il Royal College dice che la donna con le membrane rotte non dovrebbe neanche essere visitata. È sufficiente con lo speculum andare a vedere effettivamente se perde liquido amniotico. Come dicevo prima, quando si parla di PROM prima della maturità fetale, il fattore determinante è la prematurità, cioè l'epoca gestazionale alla quale si verifica la rottura delle membrane. In realtà, in assenza di una severa ipoplasia polmonare che caratterizza i casi in cui la PROM avviene in epoche molto precoci, diciamo che i rischi, i problemi legati alla prematurità di un bambino che nasce dopo una PROM sono praticamente gli stessi di un bambino che nasce alla stessa epoca gestazionale, quindi un pretermine in cui non si è avuto una PROM. Con un'eccezione che è rappresentato appunto dall'aumentato rischio di infezioni che sono due volte più frequenti nei bambini pretermine che nascono da una PROM e in più in questi bambini c'è probabilmente un rischio più alto di asfissia dovuto al fatto che l'assenza di liquido amniotico condiziona un aumentato rischio di stacco di placenta o di decelerazioni dovute alla compressione del cordone. Non bisogna poi dimenticare quelli che sono i rischi materni in caso di rottura prematura delle membrane pretermine. La corion amnionite che complica circa il 20% dei casi e fino al 40% se la PROM è avvenuta prima di 24 settimane. L'endometrite postpartum in una percentuale variabile dal 2 al 10% dei casi. Il distacco di placenta che oltre a rappresentare appunto un problema per il bambino può essere anche un rischio per la madre in quanto innescare una CID. La sepsi materna è relativamente rara però può avvenire anche in caso di una rottura pretermine protratta delle membrane fino a sono riportate anche case di morte materna. Allora la gestione della rottura prematura delle membrane che vede quindi l'impiego anche dell'ecografia che in realtà è, se abbiamo detto che è l'epoca gestazionale al parto, il fattore determinante, la prognosi di questi bambini è determinata dalla settimana di gravidanza. Prima di 23 settimane ovviamente la cosa più importante da fare è il counseling alla paziente perché in questo caso gli elementi del counseling devono tenere conto, sono quelli rappresentati dalla possibilità di avere comunque in questo caso un parto che sarà molto probabilmente estremamente prematuro. Nel counseling bisognerà tenere conto di quelle che sono le conseguenze dell'oligodramnio sullo sviluppo polmonare quindi comunque anche se il bambino, la possibilità di una sopravvivenza legata però a un'importante ipoplasia polmonare che se non è letale può comunque essere causa di broncodisplasia polmonare severa la possibilità di deformità legata appunto all'oligodramnios e poi ci sono come dicevo prima i rischi materni, un altro elemento del counseling è quello dei rischi materni legati alla gestione conservativa per gli aumentati rischi che abbiamo visto prima di infezione. Dopo 34 settimane, al contrario, la bilancia dei rischi che abbiamo visto prima siccome a questo punto i rischi legati alla prematurità si riducono drasticamente ecco che pesano quelle che sono le altre condizioni rappresentate appunto dalla possibilità di infezioni fetali di stacco di placenta, sfissia fetale e infezioni materne per cui la letteratura è d'accordo, c'è un consenso unanime sul fatto che la prom che pretermine dopo 34 settimane dovrebbe essere avviata al parto, dovrebbe quindi essere indotto il parto oppure ricorrere al taglio cesareo ma in presenza di indicazioni specifiche. Il problema principale, quello di cui parliamo adesso sostanzialmente, è invece la gestione delle prom tra 23 settimane e 32 settimane l'epoca in cui la prematurità e i rischi legati alla prometerità sono quelli che condizionano sostanzialmente tutta quanta la gestione. Quali sono gli aspetti della gestione della prom tra 23 e 32 settimane che considereremo? Parleremo della profilassia antibiotica, della tocolisi nelle pazienti con prom, della possibilità di eseguire un'amnoinfusione, amnoinfusioni ripetute, l'impiego dei corticosteroidi, la possibilità di escludere un'infezione intramniotica, il monitoraggio del benessere materno fetale con appunto l'impiego dell'ecografia e appunto il problema dell'espletamento immediato del parto versus la gestione conservativa in quest'epoca di gravidanza. L'uso degli antibiotici, il capitolo degli antibiotici nella rottura prematura delle membrane è sicuramente uno degli aspetti che sono stati maggiormente studiati. Questi sono i risultati di una metanalisi che comprende 22 trial per un totale di 6.000 pazienti. Da questa metanalisi emerge chiaramente che l'antibiotico è utile e assolutamente necessario nelle donne che hanno una rottura pretermine delle membrane perché come potete vedere si riducono notevoli effetti sulla morbidità neonatale in quanto si riduce la percentuale di infezioni neonatali, la percentuale di stress respiratorio, si riduce il numero di bambini che vengono dimessi con anomalie cerebrali maggiori. Non emerge da questa metanalisi un significativo decremento della mortalità perinatale anche se c'è comunque un trend in questo senso. L'antibiotico inoltre che cosa fa? L'antibiotico riduce la probabilità di corionamnianite ma soprattutto posticipa il parto di almeno 48 ore e di 7 giorni. E questo vedremo è importante perché quando parleremo dei tocolitici. posto che l'antibiotico deve essere fatto, quale antibiotico? Questi sono i due studi più importanti che hanno valutato questo aspetto. Cioè qual è l'antibiotico da somministrare nelle pazienti con rottura pretermine delle membrane. C'è uno studio americano, lo studio dell'NIH del 1997 in cui il protocollo proposto è quello di una terapia endovenosa ad alte dosi per le prime 48 ore basata sull'impiego dell'ampicillina e dell'eritromicina seguita da una terapia per os.